I tre luoghi proibiti dove nessuno è autorizzato ad entrare. Il terzo è avvolto nel mistero. Numero 1. L'isola Surzy in Islanda. Quest'isola è nata nel 1963 a seguito di un'eruzione vulcanica sottomarina. Nonostante la sua bellezza, è vietata ai turisti. Gli scienziati l'hanno riservata per studiare come si evolve la vita in un nuovo ecosistema senza interferenze umane. Numero 2. La banca globale dei semi a Svalbard, in Norvegia. Nascosta nell'Artico, questa struttura ha una missione vitale. Conservare i semi provenienti da tutto il mondo in caso di catastrofe globale. Sebbene il suo scopo sia nobile, l'accesso è limitato a un gruppo selezionato di persone, garantendo così la sicurezza e la purezza dei campioni. Prima di rivelarvi il luogo più misterioso e ristretto, se i segreti geografici vi affascinano, non dimenticate di iscrivervi e di mettere mi piace. E infine, il numero 3. La zona 51 in Nevada, USA. Questa base militare è stata oggetto di speculazioni e teorie del complotto per decenni. Voci su UFO, tecnologie avanzate ed esperimenti segreti avvolgono questo luogo. L'accesso è estremamente limitato e le storie su ciò che accade all'interno sono, per la maggior parte, non confermate.